Ciao a tutti e bentornati. Oggi la settimana in tv si ferma e pensa alla vita. Insieme al Vescovo parleremo di questa giornata dedicata appunto alla vita e poi ancora tante notizie dalla diocesi. Monsignore tra poco celebreremo la giornata per la vita. Cosa significa oggi? La vita è un valore sempre. Ci sono alcuni aspetti della vita che sono chiari a tutti. È morto recentemente un incidente stradale qui proprio vicino a noi davanti al tribunale un ragazzo di 20 anni. È evidente che è un dolore grande per tutti e è evidente che è un dramma. Ma mentre si avverte con chiarezza che la perdita della vita di un giovane ventenne è una disgrazia unica, è qualcosa di tremendo, non si avverte con la stessa chiarezza, con la stessa intensità il valore della vita ad esempio di un bambino appena concepito. Solo perché è piccolino, solo perché si vede solo con l'ecografia e allora c'è molto più silenzio di fronte a un bambino che viene non fatto nascere che non a un ragazzo che cade con un incidente di moto e muore. Oppure un anziano. Ci sono alcuni aspetti della vita che non sono valorizzati come altri. Questa giornata nazionale per la vita, la 39esima, vuole educare il popolo cristiano ma tutta la cittadinanza a capire che la vita ha sempre un valore, fin dal concepimento fino alla morte. Nonno ha valore la vita di nonno. È bene che nonna viva incanto a noi, come è bene che un bimbo concepito da papà in mamma viva, come è bene ovviamente, che viva un giovane, che viva un ragazzo, che viva una donna, che ognuno possa trovare gli aiuti per poter superare quelle difficoltà che capiamo che a volte possono portare a situazioni drammatiche. Per questo, e lo vedrete in questa trasmissione, abbiamo accentuato mille iniziative, non poche iniziative, per sostenere tutta la vita, dalla nascita all'accompagnamento finale. Ma mentre per casa Papa Francesco, quella per i bambini, c'è un'attenzione incredibile, e meno male, per altre cose, tipo per l'accoglienza della vita nascente o per gli anziani ce n'è molto meno. Allora su questi punti bisogna educare. Allora invitiamo tutti i sacerdoti e tutti voi a fare mille attenzioni perché succede sempre così nelle epoche. C'è stato un periodo in cui si diceva che la vita degli ebrei contava meno, che la vita dei negri contava meno, che la vita dei rom contava meno. Continuamente ci sono queste tentazioni che ci prendono di credere che qualche vita conti meno. Oggi quelli degli immigrati. C'è una nuova tentazione, c'è chi lo vorrebbe rimandare tutti in mare. Evidentemente c'è sempre questa tentazione, bisogna superarla. Ecco il senso di questa giornata. Un impegno per la vita a 360 gradi, quello messo in campo dalla Diocesi di Livorno. Strutture e servizi che si prendono cura della vita dalla nascita alla morte, che sostengono chi vive situazioni problematiche per accompagnare e tutelare gli esseri umani in ogni momento della loro esistenza. C'è il progetto Gemma del Movimento per la Vita, che aiuta le gestanti in difficoltà, spesso costrette all'interruzione di gravidanza per motivi economici e psicologici. C'è la casa famiglia Papa Francesco, gestita dalla Caritas, in collaborazione con le suore figlie della Carità, che accoglie minori soli da 0 ad 8 anni affidati dal Tribunale. E per aiutare le madri sole c'è Villa Benedetta, la casa di Montenero dove le figlie di Sant'Anna si prendono cura di tante donne e dei loro piccoli. Per le famiglie è in funzione anche il Centro alle Sorgenti di Carità, in Via Donnini, uno spazio di accoglienza in cui sostenere le famiglie nella loro vita di coppia e nella responsabilità genitoriale, nonché facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro per chi si trova in situazioni di disoccupazione. Da due mesi Caritas offre anche il servizio binario mobile alla stazione di Livorno per l'aiuto e l'orientamento alle persone senza fissa dimora. Mentre resta punto di riferimento importante il Porto di Fraternità, in Via delle Cateratte, un centro di prima assistenza che fornisce pasti caldi, guardaroba e docce, ma anche assistenza sanitaria e burocratica. Per informare su tutti questi servizi, spesso sconosciuti a chi ha bisogno di aiuto, in questi giorni la Diocesi ha stampato e distribuito un Deplian perché attraverso un'informazione più capillare i servizi possano essere ancora più utili alla vita. E adesso alcune notizie dalla Diocesi di Livorno. L'ultimo consiglio pastorale diocesano è stato interamente dedicato al mondo giovanile. Un cammino, quello dedicato ai giovani, oggetto dell'ultima lettera pastorale del Vescovo Simone. La pastorale giovanile nei prossimi mesi farà un lavoro di ascolto. Fondamentale sarà la collaborazione con gli insegnanti di religione per raggiungere un duplice obiettivo, rispondere alle domande poste dal questionario del documento preparatorio del Sinodo e avere sotto mano quelle che sono le esigenze, le proposte, le critiche e i consigli dei nostri ragazzi. Parallelamente si procederà con una riflessione del Consiglio pastorale finalizzato alla preparazione del convegno diocesano di ottobre. Noi siamo fatti per il bene, per navigare nel mare della vita dobbiamo fare del bene. Con queste parole il Vescovo Simone Giusti ha concluso la sua omelia durante la messa in occasione della festa di San Giovanni Bosco. Alla messa erano presenti le classi dei bambini che frequentano la scuola dei Salesiani di Livorno, le insegnanti della scuola e alcuni genitori degli studenti. Parole quelle del Vescovo che si collegano direttamente con quanto ci insegnava il fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Si chiamano Don Sebastiano e Don John Bosco i due nuovi sacerdoti arrivati a Livorno dalla diocesi Deodoma in Tanzania. Don Sebastiano ha 50 anni ed è sacerdote dal 1996. È stato parroco della cattedrale di Deodoma e adesso offrirà il suo servizio pastorale alla parrocchia di San Giovanni Battista e L'Area Rosignano Marittimo con Don Federico Locatelli, mentre Don Giombosco che ha 49 anni sarà a Castiglioncello a fianco di Don Francesco Ferdaliso. Entrambi i sacerdoti resteranno a Livorno per tre anni grazie alla collaborazione con il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco che cura i contatti e i progetti con la Tanzania. I due preti africani potranno seguire il corso di dogmatica a Firenze presto la facoltà di teologia dell'Italia centrale. È stata una firma ufficiale quella di domenica scorsa alla parrocchia di Santa Lucia, dove è stato presentato il programma educativo dell'oratorio. Un progetto applaudito dai genitori, dagli educatori, ma prima di tutto dai giovani e dai giovanissimi. Insieme con alcuni catechisti, animatori e rappresentanti di alcune famiglie, Don Piotr Kovnaki e Don Federico Mancusi hanno accolto questa dichiarazione comunitaria della necessità di spazi sani per i nostri giovani. Ci sta a cuore ed è il sogno di ogni sacerdote ma anche di ogni fedele avere la chiesa piena di giovani, ha detto il parroco durante la celebrazione. Anzi, tutti gli spazi parrocchiali sono vostri e noi siamo a vostra disposizione. Sfruttate questa occasione che vi si offre perché il vostro cuore possa riempirsi di Dio e di felicità dall'incontro con altre persone, perché ognuno di voi in questo luogo più bello del quartiere possa passare i momenti migliori della vostra vita per poi condividerlo con gli altri. Ed eccoci con gli appuntamenti della Diocesi di Livorno per la prossima settimana. Domenica 5 febbraio alle 11 il Vescovo celebrerà la Santa Messa alla parrocchia di San Matteo in occasione della visita pastorale al secondo vicariato, mentre alle 18 alla Chiesa del Sacro Cuore ci sarà la Santa Messa per la giornata della vita. Lunedì 6 febbraio alle 9 e 30 in Vescovado ci sarà l'incontro con il centro missionario diocesano. Alle 16 e 30 in occasione della visita pastorale al secondo vicariato il Vescovo incontrerà il gruppo di milizia immacolata alla parrocchia di San Matteo. Infine alle 19 e 30, sempre lunedì 6 febbraio, alla parrocchia dei Salesiani l'incontro di formazione base per i giovani catechisti animatori. Martedì 7 febbraio alle 18 e 30 il Vescovo inizia il corso di catechetica alla scuola di formazione teologica alla parrocchia dei Sette Santi. Giovedì 9 febbraio alle 9 e 30 il ritiro spirituale del clero alla casa di esercizi spirituali Alma Pace. Alle 18 e 15 alla Chiesa della Purificazione l'Alezio Divina con i seminaristi. Alle 21 l'incontro preparatorio del secondo vicariato al convegno catechistico diocesano alla parrocchia di San Matteo. Venerdì 10 febbraio alle 19 e 30 nella sala Fagioli del Vescovado il Cineforum promosso dal progetto culturale diocesano. Il film proiettato sarà Simon. Sabato 11 febbraio alle 16 nella cappella di San Giuseppe all'ospedale la Santa Messa in occasione della giornata del malato. Domenica 12 febbraio alle 10 e 30 in occasione della visita pastorale al secondo vicariato il Vescovo incontrera i bambini, i genitori e i catechisti della parrocchia di San Giuseppe. Grazie per essere stati con noi ci vediamo la prossima settimana e non perdetevi le notizie su lasettimanalivorno.it Ciao!